L'unica vera notizia venuta fuori dal vertice regionale dei partiti del centrodestra è che Donato Toma non viene visto come il candidato presidente in grado di tenere unita la coalizione. In altri termini, se Roma in un modo o nell'altro imponesse il nome del governatore uscente come candidato alla presidenza, si andrebbe incontro alla deflagrazione del centrodestra e alla prevedibile e scontata sconfitta contro il centrosinistra. Quello più chiaro di tutti è stato Marone, coordinatore regionale della Lega, che senza Fronzoli afferma che il suo partito e lo stesso Salvini hanno già detto no ad una ricandidatura di Toma. Per quanto riguarda la Lega non è una novità e da sempre, lo ha detto Matteo Salvini, l'ho ribadito in più occasioni, sicuramente una discontinuità rispetto al presidente Toma. Gli altri hanno detto e non detto ma nel momento in cui Vincenzo Niro dei Popolari e Teresio Di Pietro dell'Udc invocano la paridignità delle loro formazioni politiche nella scelta del presidente, dicono anche che non sostengono una ricandidatura di Toma. Stessa cosa per Fratelli d'Italia che andando a Roma e chiedendo la candidatura a presidenza per un suo rappresentante, che sia Iorio Pallante poco conta, ha sostanzialmente abbassato un passaggio a livello di fronte a Toma. Ricapitolando quindi, chi sostiene la ricandidatura dell'uscente è solo la tartaglione di Forza Italia, ma si tratta di una voce molto flebile e di poco peso nel partito dopo la sua mancata rielezione. Perché in Forza Italia c'è un'altra posizione di forza e una voce molto più possente che ha già bocciato senza appello Toma e si tratta dell'eurodeputato Aldo Patriciello. Alla fine quindi Toma viene sostenuto come uscente da se stesso e dalla tartaglione, decisamente poco per poter rimettere insieme una coalizione che già traballa di suo anche a causa delle politiche sconsiderate dell'attuale giunta regionale sulla sanità con la guerra ai privati e le difficoltà create ai malati di tumore. Insomma Toma avviato ad un triste epilogo, così come il suo vice Vincenzo Cotugno, che dopo aver abbandonato Orgoglio Molise avrebbe già ricevuto l'invito degli alleati a mettere su una sua lista per le prossime regionali, perché sembrerebbe che non ci sia posto per lui in nessuna delle liste dei partiti della coalizione, né Forza Italia, né Fratelli d'Italia, né Popolari e Notizia di ieri sera, né anche l'Udc.